Simone Franchi, una promessa del calcio perché è ancora giovanissimo, stasera si può definire sicuramente il migliore in gambo della sua squadra, ma io direi anche di tutti i 22, a parte quel Bartolomeo che mi ha fatto fatto cimiro, come mai? Avete pagato un po' l'esperienza di questo? E' un po', eravamo più piccoli fisicamente pure. Tu non dando fisicamente. Vabbè, pure senza portiere stavamo oggi, ma non è una scusa però. Per la prossima partita bisogna vincere. Chi è che non dà le volte che può essere utile la prossima? Eh vabbè, il portiere pure, quello pure è bravo, devo andare pure a fare il nazionale. Tu mi sei sembrato sprecato in quello che possiamo dire. Eh vabbè, però vabbè, attaccato, vabbè. Sei un centrocambista avanzato, no? Eh vabbè, più o meno. Ci sono frite, si arriva là, ho detto, mettiamoci là un po'. Quanti gol hai fatto? Eh, due o tre, mi sa. Due, due. Grazie, ciao.